Buon pomeriggio amici ho appena terminato il sessantesimo sblocco degli archivi a mente che ho accumulato ne ho adesso da farne ancora una quindicina sono all'ottanta per cento raggiunto e ho sbloccato il mettere su peso e qui adesso state vedendo la classifica nel senso quanti giocatori hanno sbloccato questo genere di trasporto eccezionale con l'1.2 per cento dei giocatori che hanno finito questa archivi a mente l'ho sbloccato al proprio oggi 2 maggio 2020 alle 16 17 quando finito la live ok ci sentiamo più tardi adesso vado proprio al riposo mi riposo un pochettino proprio a letto vado a dormire un po' vi auguro a tutti un buon sabato e più tardi farò un altro archivi a mente poi domani qualcosina ancora fino che proprio stacco toglierò la postazione dove ce l'ho adesso e passerò con resident evil 3 direttamente con la live ciao a tutti al prossimo video più tardi ciao a tutti di nuovo